e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone da yeh bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite settimana veramente molto importante per il nostro battle royale in quanto probabilmente domani arriverà la patch 11.20 e deve sicuramente essere una patch importante in quanto rivedremo delle nuove skin in game alcune le avevamo già liccate qualche video fa ma soprattutto il grande ritorno dello spara vende per tutti quelli che come me devono completare la sfida e quindi poter sbloccare gli stili selezionabili di alcune skin nel video di oggi comunque parleremo di un bug che verrà fixato probabilmente in queste ore dove non è possibile subire danno da caduta una volta sfruttato veramente incredibile e semplicissimo anche da fare ma vedremo anche alcuni aggiornamenti sulla nave imperiale sì perché alla fine l'unica skin di star wars l'assaltatore imperiale è arrivato è rimasto 3 4 giorni è andato via abbastanza in silenzio e ci aspettiamo comunque di vedere qualcosa di importante anche martedì ma già la navicella qualche modifica la fatta e ovviamente una bala sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a farmi compagnia ea salutarmi live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per la vostra compagnia e per il vostro supporto e grazie anche a tutti quelli che vogliono supportarmi utilizzando il mio codice creator xyuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video o prima e ieri non ve l'ho fatta che c'è stato il funny moment la domandina ve la devo assolutamente fare una domandina molto personale ma voglio davvero sapere la vostra opinione ma se potessi scegliere quale movement rivorresti in game ragazzi rampini bouncer jump granate esplosive io personalmente se potessi scegliere rivorrei la jump classica pulita fai due scale jump in giro ci starebbe tantissimo in questa mappa così grande ditemi quale vorreste voi qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e mando alle ciance andiamo subito ragazzi a vedere il primo argomento che è il frosty fortnite si ne avevamo già parlato qualche video fa del frosty fortnite ma sono uscite finalmente anche le notizie in italiano quindi vi basterà semplicemente andare nel sito di epic games sezione notizie troverete una pagina dedicata in questa pagina del frosty fortnite c'è anche il link che vi riindirizzerà per il modulo per l'iscrizione e la proposta della vostra mappa creativa creata appunto con le nuove gallerie che arriveranno prestissimo vi ricordo che c'è tempo solo fino all'otto dicembre per poter candidarvi e ricchi premi ovviamente faranno parte anche per tutti quelli che riusciranno ad essere selezionati vi invito appunto a dargli un'occhiata per sapere tutti i dettagli ufficiali e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi come vi avevo già anticipato esiste un modo incredibile per non subire danni da caduta e parlo da qualsiasi altezza è successo casualmente proprio così a nick merks avete presente ovviamente di chi sto parlando che durante un suo streaming voleva suicidarsi facendosi un danno da caduta ma guardate che cosa è successo veramente veramente incredibile andiamo a vedere è proprio lui ragazzi questo è il tutorial del ragazzo che in realtà sta spiegando ci porta fra pochi secondi alla clip originale ed eccolo qua nick merks che come vedete passa a fare una serie di scale poi le va a sostituire le va a prolungare con delle scale sulla destra e nel momento in cui lui si butta dicendo ok non prende danno da caduta e rimane completamente costernato come ha fatto ovviamente chiedete voi beh ragazzi la soluzione è proprio alle spalle del personaggio e ve la fa vedere tra pochissimi secondi non dovete far altro che passare in mezzo a un cespuglio e poi buildare tutto quello che vi pare lui passa in mezzo al cespuglio quindi non ha fatto niente di strano ha già preparato una doppia rampa di scale e guardate adesso non appena decide di cominciare a salirle senza nessun problema si butta giù e anche lui non subisce assolutamente danno vi invito a provarla così se volete farvi due risate probabilmente verrà fissato in queste ore però è comunque molto molto divertente e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi la nave imperiale si ragazzi l'avete già visto ve l'avevo già fatto vedere sono un paio di giorni che la nave imperiale è sui cieli di fortnite ancora non molto definita ma sembra in realtà che si stia muovendo anche perché voglio farvi vedere un altro spezzone di video come vedete ragazzi è apparsa la sotto quella specie di cosa rossa luminosa quella cosa rossa luminosa che non c'era fino a due giorni fa potrebbe essere ricondotta alla nave imperiale della saga di star wars da dove vengono rilasciate appunto le altre navicelle che vanno a fare un po quello che devono fare molto curiosa questa cosa ragazzi anche perché non è successo in realtà nulla ancora per quanto riguarda il cross la collaborazione tra epic games e star wars tutti stiamo aspettando un ltm altre skin dedicate qualcosa che proprio la nave madre possa fare e magari il vedere un aggiornamento anche se piccolo sulla navicella lascia ben sperare che qualcosa sta per arrivare e andiamo avanti con l'ultimo argomento di oggi dove ci soffermiamo un attimo sul fucile a pompa leggendario sul tac leggendario è ancora chiamato in causa nick merckx perché facendo delle domande proprio allo streamer durante una sua live lui è sempre stato molto attento a scegliere il miglior pump per le sue partite e diceva che il tac blu era più veloce dal nel tempo in cui lo ingaggi e puoi sparare rispetto al tac leggendario in realtà epic games meno di 24 ore fa ha fatto una piccola modifica anche questa passata totalmente inosservata sul tac leggendario diminuendone il tempo di ingaggio e nel momento in cui appunto lo si decide di selezionare vi faccio vedere un brevissimo video che ci mette in confronto appunto i due fucili a pompa molto interessante per tutti quelli che volevano sapere il tac blu ci mette esattamente 0,5 secondi e il tac oro ce ne mette 0.484 quindi un 0.16 millesimi di secondo in me non potrebbe sembrare una stupidaggine però in realtà se voleste scegliere il pompa più veloce in assoluto adesso ecco è proprio il tac leggendario ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche oggi le news mi raccomando iscrivetevi in tanti al canale noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao ciao